Oh, è aumentato l'armor, what? Quest'anno al Fanta della cricca Di devasto Qua si poteva prendere anche l'1-2, è close in realtà Perché tanto contro Rich King si perde Però il 4-2 con le monete mi piaceva Quindi ho preso il 4-2 per quello Comunque quello che dice Ska, il gruppo del Fanta cricca ha ragione Cioè dice che la panchina libera è bella Che tipo se tu metti Cioè hai l'ordine di una panchina di un certo tipo E vabbè questo, scusate tre danni Cioè tipo tu metti un attaccante Per primo E poi dopo non ti gioca una punta Scusate, questo è il 4-4-2 Cioè un attaccante per primo Non ti gioca Un centrocampista, anziché fai ad entrare un altro CC Ti entra la punta, perché l'hai messa per prima Nell'ordine della panca Questo ragazzi non ha tribe Ah ok, figo Mass attack starts in 5, 4, 3, 2, 1 E comunque mi dovete confessare una cosa ragazzi Cioè cosa vi porta a lanciare le sirene della polizia? Cioè tra tutti gli oggetti No, questo lo voglio sapere Adesso ho un curioso Cioè tra tutti gli oggetti che ci sono Perché lanciate le spie della polizia Cioè i suoni della polizia Perché fanno più casino Perché sono i primi E questa è la risposta che Secondo me era quella la risposta Bene Grazie per uno di questi belli lottatori di sumo Spendiamo le gemme Oddio 65 euro sono tanti 10 servitori e mangiamo Tanto hai centro o destra? Oddio le gemme tra 65 gol sono tanti Sto a capire questo Ragazzi rollo? Livello qua? No, livellare no Comprare sta roba però è brutta Eh devo prendere due pezzi Ma sono veramente uscini Dai rollo Ok Ah ragazzi mi raccomando Se il video vi sta piacendo Like E se volete proprio esagerare Il commentino È il top Si dovete prendere il 3-2 Però in realtà anche le naga Scamano bene con questa Quindi preferisco prendere lei In generale lei ti apre la build naga E qua lui mi ha devastato Poco da dire Io sono al 3-2-2 Lui al 2 ha un botto di gold Ah capo 3 è una strazza Minchiamo iniziato a fare live La mia prima live risalda al 2016 Ma lo streamer vero lo faccio dal 2020 Eh merda questo era buono Eh che cazzo è Vallo a capire Vallo a sapere E chi ho la 2-5 qua la devo prendere ragazzi O no Fa un po' merda Però teoricamente da prendere Boh No non ho preso il 3-2 Ho preso la 2-5 Te prenderà 5-2 Che prende con la moneta si sale Quali roll ragazzi Boh 5-2-2-5 Forse sto a 5-2 scomma con questo Non è il più forte ma combatterà Ok E cazzo E qua aver perso la moneta pesa infinita Continua a muoverti Buona battaglia E qua pesa aver perso la moneta Ah hai preso il 3-1 Che aveva pompato questo Avrei avuto Un pezzo in più Su bg ragazzi Paga tutto Si peggiori 3 di tutti Però con questo fareggiamole La battaglia è in furia là fuori Ma qua 3-Naga Non lo so Sicuramente entra la stella Devane per la quest non era male Non più uno più uno in più Infatti No no ma infatti è vero Anche quello Infinito Punito Per una disattenzione La partita è compromessa Allora Questo si prende Devo salire Perché ho questi due 21 dopo faremo qualcosa Spero Questo non sca È stata una merda Allora Secondo voi la Naga È giusto metterla 1-1 per prima Magari la 2-5 Da rubare Prendere il 3-2 per la quest Mi sembra brutto Onestamente Cioè potrei prendere anche il teschio Il 2-3 Ma è tutta roba brutta questa qui Mi tengo le coin per dopo Spero di non prenderne 15 Non dirlo agli altri Ma faccio il video per te What the fuck is that Ah Allora attaccare a destra Quattro danni in meno Spostano Ottimo Grazie Allora Abbiamo un 7-6 Correborn Che è Bello solido Che stefan schifo Prima la moneta Non morti Non morti Mi dai i rel Più questa Chi si prende I rel Sbagliato Roll Roll Bello Allora Mi piace il tuo modo di pensare Vabbè si prende la maracas Facciamo saltare la 1-1 Prendo Oh qua maracas sempre Maracas sempre roll Per prendere la tazza Ma in realtà non mi serve la tazza Oddio la tazza non è male Oddio tutta la tazza non è male No la tazza La tazza ci sta Un altro blu profondo Devastante Allora saltano loro Ok Maracas build Ho sbagliato a mettere quello lì davanti Che in realtà cambia il giusto No Non ci volevo Sì devo metterlo dietro Non c'è più la sabri scattabile Boh C'è ancora Non c'è più Mi ricordo Comunque Andi non morire Lui è al doppio 2-5 Quattro turni fa Questo è un buon pezzo Che potrei aver preso Per lui Infatti se l'ha Roll No sense Roll Secondo 2-5 ci piace Roll Ma allora io qui ragazzi A parte rollare Ah beh roll ho per la tripla di blu E di pro di Maracas Roll Build e quest Roll E salta la 3-3 Ed entra lei Stop 2-5 Allora Potremmo mangiarla Ma Prenderla qui non credo abbia senso Se la mangia Amen E vieni Stiamo a tirare 1 2 3 4 3 4 Non morire 1 tripla Che tra le altre cose Non è neanche così forte Ma ci sta comunque Buona battaglia Ebrano spazio No Oddio Che sfiga Ok sto buono Giogliamo del value Tor sceno Vai Patta va bene Accettiamo la pattina Ok dai Adesso abbiamo una build giocabile Quindi Coins Lui ha Non morti Questo avrà Allora facciamo Beh facciamo che gli le tiro subito Facciamo così Magari esce lo scudo Gli diamo subito lo scudo Esattamente ciò che stavi cercando Non esce scudo Penso di prendermi a scuola disc Che è semplicemente gold Roll Roll Maracas Mi dispiace perché facendo Maracas qua Avendo tirato già i blu profondi qui Ho missato tipo Un casino di statistiche Per poter cercare lo scudo divino Da questa Guardi Si prende Anche io avrei scelto quello Famidos Puoi ribaltare la situazione Eh Oddio Tra l'altro qua era un veleno Non un poison Cioè non un fiele Allora Peccato Per Nella Maracas Non ci sono Non ci sono Non ci sono Clive Se avete 3-4 scudo win Questo non è male Ma tanto Le stats Le carte si tirano tutte lì Mi servirebbe triplare il blu Prima di tirare le carte su Maracas Allora Questa non morti Allora Però Se avete triplare lui ragazzi Poco da dire Eccolo Allora Mi piace il tuo modo di pensare Eeeh Pumandriana Fa un po' di stats Un po' di stats Continua a muoversi Sennuto Rallenta Buona battaglia Mangiare la questa Totalmente inutile E fino a qui Siamo hardcariati Da quella naga 129 136 Che continuerà a scalare Questo non è male Però Considerate che sotto uno Avevamo due spell in più Perché abbiamo fatto La La tripla di blu Questo non è male Per chiudere Questo non è male Allora Siamo questo Verospino Cosa è più probabile Che abbia Ovviamente È questo Questo è forte Contro il verospino Andare su ragazzi Ha senso Cerca lo scudo qua Apparente adesso Ci sta a salire Eeeh Quindi facciamo così Parrei saltare La 76 Potrebbe saltare Anche la mandriana La 76 È un bel taunt Apparente sì Facciamo così Allora uno Due E queste vanno Semplicemente qua E via la pianta Faccina sorridente Oddio non lo so Bella ferruccio Grazie Sedicesimo mese Come sono andati gli esami Ragazzi cosa facciamo saltare qui La piantina O il 76 La piantina da quelle Più 6 Tanto alla fine tiriamo 5 spell Più 10 Più 10 è turno Il 76 è un taunt Il 76 taunt non è male Può togliere gli scudi Lui ne avrà sicuro Quindi Pianta Pianta ci sta Lui è pieno di scudi Quindi questo positioning Ci può stare La tira tutta Probabilmente faccio una cosa Del genere Vai 5-3 perché no Questo È tardi per ora Fale start Madonna Lui è fortissimo Fortuna che l'abbiamo tenuto Ho nevato un Leroy Abbiamo la nostra bella Naga Enorme Che ci Hardcaria Ah il non morto che dava Reborn Il 4-2 Ah si il 4-2 Quello ci poteva anche stare Effettivamente Per dare Reborn a questo Ci sai fare Non morti Quale avrà dei due Impossibile da indovinare Teoricamente Con la quest È questo Roll Ok allora a questo punto Il 5-3 ci sta a prenderlo Anche se contro Non morti Non è buonissimo Ha preso comunque Roll Per il festino No Roll 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 Questo serviva 80 turni fa Non so se vale la pena Farsi attare il 14-17 Per fendi anime Probabilmente sì Cioè il 14-17 scudato Non mi dice niente C'è nulla qui Faccio con questo Questa qua Questa perenne lì Questo lì va ai pezzi Quanto teoricamente Va tenuto in fondo Ora come ora Vediamo se riesce a stare in testa Alla classifica Buono Adesso servirebbe dare Taunt a fendi anime In modo tale che io possa vendere Quell'altro taunt Che ovviamente è obsoleto E' un altro bel E' un bel liroy Ci può stare per chiudere Noi lo scudo Da dare a questa Anche figo Si potrebbe valutare Di dare anche Stealth Alla guardinga Non so se vale 3 gold Buonasera Tu non ti segui molto Su youtube Ciao cavalieri Benvenuti anche qua Su twitch Fight finale Questo ha Demoni Questo ha un Ok Una bianca in particolare Tra l'altro lui Se non sbaglio Che ci può stare Puoi disegnare Una cosa del genere PP Questo dorato sarà L'ho visto Roll 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 Questo può essere Rockage Però se avevo un taunt Prima Roll Un altro 3-6 Si prende Belle stats Però non Non ci sta roll Come taunt Chiuderemo su questo Probabilmente Un altro 3-6 Ok Allora forse giochiamo Senza taunt Non lo so Effettivamente Ci può giocare Anche senza taunt L'unica cosa Lui avrà Prende quel draccari E avere qualcosa Che toglie draccari Non è male Però il secondo 3-8 E' buono Contro uno Che ha un fin Stats Quindi si ci sta togliere Questo C'è titato E lo scudo Per un 3-8 Potrebbe essere Il fight finale Quindi ci sta Siamo così Eccolo lì Ovviamente Vai E faremo saltare Marachella Ma non adesso Non ho il gold Quindi L'altra la tirerei qui E' in fondo Non ho mangiato Il murlock Non tanto Non l'ho mangiato Buono 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 Questo gigante Vabbè Bella Ha fatto una Tarecosa build Nel 2023 Ragazzi Ho fatto veramente Due primi posti Di fila Incredibile Incredibile Ah è perché Hai bettato 250.000 limoni Diego Grazie Grazie Diego Quando gufi Contro di me Faccio sempre Primo Grazie Grazie Diego Continua a farlo Forse sono stati I sumo wrestler Di strappa No mi direi che Al momento Sono i sumo wrestler Di strappa Che sappiamo Che hanno portato fortuna Due volte su due Che quei lotatori Di sumo Sparati in faccia Mi hanno fatto Primo posto Te Diego Non hai bettato La partita di prima No bisogna Sono stati Quei lotatori Di sumo Clamorosi Clamorosi